Salve siamo qui con l'ambasciatrice inglese per parlare di startup, specialmente startup rosa o al femminile. Nella mia esperienza ho visto molte poche startup al femminile e i dati che lei ha riportato sono quasi quasi incoraggianti ma molto minori di quelli che io ho visto realmente nella mia esperienza. Se mi vuole raccontare la sua esperienza. Sì, noi oggi durante la conferenza abbiamo condiviso alcuni dati dall'esperienza britannica e da noi nel Reino Unito, come devo dire, e la situazione diffusa nel resto dell'Europa, la presenza delle donne nel settore innovativo scientifico di startup è troppo bassa. Ci sono i dati preoccupanti. Abbiamo discusso oggi quali sono gli interventi, gli strumenti, le motivazioni per sopportare, per incoraggiare più donne, più ragazze, prima cosa, più ragazze da studiare le materie cosiddette STEM, che è proprio l'inizio, il cuore del problema. E per noi il tema del startup, dell'innovazione e l'empowerment femminile, per il governo britannico è molto importante, è al cuore del nostro approccio, rappresentato dal Innovate UK, che si punta molto a incentivare, motivare il coinvolgimento delle donne. Ovviamente le pari opportunità è un tema che fa parte dei nostri valori, quindi è importante per coincidere con i nostri valori, però allo stesso tempo ha buon senso, perché ignorare, marginalizzare il 50% del popolo del mondo mi pare sia uno spreco impensabile, inaccettabile. E tutti gli studi internazionali dimostrano che le imprese, le organizzazioni che hanno veramente una diversità, una diversità di genere, ma una diversità anche di pensiero, di tutti i sensi, hanno più successo. Allora è un tema che coincide con i nostri valori, però anche ha buon senso, perché le organizzazioni diverse sono più innovative e hanno, nel senso commerciale, più successo. Io ritengo che i role models abbiano un ruolo molto importante da giocare. Ad esempio, noi come l'ambasciata qui in Italia, noi abbiamo lanciato una serie di iniziative che abbiamo intitolato Women In, Donne In, proprio per far brillare, per mettere sotto i riflettori gli esempi delle donne che sono riuscite nei campi tradizionalmente considerati maschili, perché ci sono gli esempi brillanti, eccezionali, le donne britanniche e le donne italiane. E io penso allora che sia molto importante che le donne giovani hanno accesso a questi esempi isperitori.